buongiorno amiche buongiorno a tutti eccoci di nuovo insieme allora oggi il mio compagno ha preparato una pasta con il broccolo siciliano come potete vedere qui in padella prima lui io ho pulito i broccoli poi lui li ha lavati e li abbiamo lessati e ora li abbiamo ripassati in padella con aglio olio e peperoncino abbiamo fatti tipo a crema e in un'altra pentola abbiamo messo a cuocere le orecchiette l'abbiamo tolta al dente è quello che sta trasferendo nella padella e ora non cambiamo bene lo impazziamo mettiamo sopra del pecorino a chi piace non mette altrimenti no facoltativo eccoci qua ora se c'è bisogno si allunga con acqua di cottura penso di sì perché siamo finiti di cuocere le orecchiette anche perché poi rimanebbe troppo asciutto senza acqua poi aggiunge ecco adesso regolete così penso che non c'ava poco perché tutto la cottura finale adesso il tempo di fare un sapore un po' parte di padella lì come dici per fare la spadellare spadellare perché metto un minuto acqua la presenza casciutta poca, non tanta perché sono quasi docce è diventato il re dello spadellamento si, ridi, ridi buona che sto facendo qui come sei diventato rosso? la vergogna è il calore del gas ecco, questa è pronta posso impiantare? vediamo subito io basta pure quelle basta, basta, non sono troppe chi ha mangiato quelle? adesso facciamo sì si grattugiamo il fraggio a voi? poco poco io lo vede il tecolino? è sì, ci vuole quello sopra la notte di questa pasta sono il friggolino basta ora vediamo un po' questi piatti sì, te li faccio vedere questi due piatti sì ti vanno bene così? sì, sì, vanno bene alla salute buona ok allora anche per oggi è tutto abbiamo fatto un velocissimo video vi saluto vi saluto anche il mio compagno saluto a distanza ciao a tutti e buon pranzo e buona giornata ciao ciao